L'Alba Longa ha conquistato i tre punti contro un latte dolce volitivo ma meno forte della capolista, che già nei primi dieci minuti ha raggiunto un doppio vantaggio sfruttando un approccio molto deciso dato alla gara. Tutto sommato, una bella partita, quella vista su un campo reso insidioso dalle precipitazioni che hanno dato Tregora per tutta la durata dell'incontro. Il vantaggio dell'Alba Longa è arrivato al quinto minuto con Succi che ha ribadito in rete una respinta ai Garau. Al decimo sul rigore abbastanza dubbio il raddoppio di Delgado. Il gol di Carboni al trentaduesimo riapre la gara che mostra un latte dolce volitivo. Al ventisesimo della ripresa è il terzo gol ospite che chiude la gara. Resta la soddisfazione di aver giocato una partita vivace con buoni spunti per quello che ha da venire, aspettando naturalmente il rientro dei troppi infortunati.